Cos'è che succede quando amaro un re? Che ci si ammazza per diventare quello nuovo. E quello nuovo c'è sempre qualche conto da pagare. Pronto? Ma fa che? Com'è che diresti tu? Ancomincia. Questo nuovo mondo che stiamo costruendo noi tutti insieme a te merita di essere rispettato. Ma questi non hanno capito che testo posto la rivoluzione. Basta passi di quello che c'è da aggiustare. Università, medicina è gratis. Questa è la proposta. Fai quello che tiene i conti, quello che ci dice, quello che ci possiamo permettere. Ci sono 300 euro. 300 euro di che? Consulenza. Ma che facevi l'idraulico prima te? Il padre sta a morire. Gli fai il miracolo. C'è da quello che vogliamo. Tipo? 5 milioni. Se morì. Perché ti sei portata? Marocco, c'è sta il mare, sì? Non so, sì. Marocco. C'è chi sparge il caos e chi riporta l'ordine. Quel bel biondino che tu hai scambiato per un angelo. Ha messo in campo un falso profeta. Ma con il tuo aiuto possiamo ancora fermarlo. Anzi, forse sarebbe più corretto dire... ...annientarlo. C'è qualcuno a cui proprio quello che stiamo facendo non piace. Noi due siamo legati da qualcosa di speciale. Nessuno è più importante di noi stessi. Nemmeno Dio. Questa cosa è troppo più grande. Se te sei tipo un angelo, eh? Io che so. Come diceva quello lì, la libertà non è un coso libero... ...è partecipazione. Andate, ascolti i cover. Vieni. Magno. 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 Grazie a tutti.